Transurfing. I principi del Transurfing sono una filosofia di vita basata sulla consapevolezza e sulla libera scelta. La filosofia sostiene che tutto ciò che accade nella nostra vita è il risultato delle nostre scelte. Il Transurfing sostiene che è possibile raggiungere qualsiasi obiettivo senza lottare, semplicemente scegliendo una direzione giusta e seguendola con consapevolezza. Il Transurfing enfatizza l'importanza di vivere in modo consapevole, concentrandosi su ciò che si desidera e ignorando ciò che non è importante. La filosofia sostiene anche che siamo in grado di controllare i nostri pensieri e le nostre emozioni, e quindi il nostro destino, seguendo la direzione della nostra scelta. Le tecniche di Transurfing sono un insieme di strategie che possono essere applicate per raggiungere qualsiasi obiettivo. Queste tecniche si basano sui principi del Transurfing, sottolineando l'importanza della consapevolezza e della libera scelta. Alcune di queste tecniche includono la programmazione della realtà, la visualizzazione creativa, la dissoluzione della resistenza, la focalizzazione sulle intenzioni, la regolazione dei processi vitali, la trasmissione della vibrazione e l'utilizzo dei sogni. Attraverso l'applicazione di queste tecniche, è possibile raggiungere qualsiasi obiettivo. La tecnica della programmazione della realtà è una strategia di Transurfing che insegna come influenzare la realtà attraverso la consapevolezza e la libera scelta. La tecnica insegna come programmare la nostra realtà in modo da ottenere ciò che desideriamo. La tecnica si basa sulla convinzione che siamo in grado di influenzare la realtà attraverso la nostra consapevolezza e le nostre scelte. La tecnica ci insegna come creare un'immagine della nostra realtà ideale e come attirarla verso di noi. La tecnica ci insegna anche come sfruttare l'energia della realtà per raggiungere i nostri obiettivi. 1. Crea un'immagine della tua realtà ideale. La prima cosa da fare è creare un'immagine della tua realtà ideale. Immagina come vorresti che fosse la tua vita e come ti piacerebbe sentirti. Prenditi il tempo necessario per visualizzare con chiarezza la tua realtà ideale. 2. Trasforma l'immagine in una vibrazione. Una volta che hai creato un'immagine della tua realtà ideale, devi trasformarla in una vibrazione. Quando ti focalizzi sull'immagine della tua realtà ideale, devi sentire la vibrazione che emana. 3. Trasmetti la vibrazione. Una volta che hai creato la vibrazione, devi trasmetterla alla realtà. Trasmetti la vibrazione attraverso la tua consapevolezza. La dissoluzione della resistenza è una tecnica di transurfing che insegna come liberarsi dalla resistenza. La resistenza è una forza che ostacola il raggiungimento dei nostri obiettivi. Quando la resistenza è troppo forte, può diventare difficile portare avanti i nostri progetti. La dissoluzione della resistenza ci insegna come identificare questa resistenza e come superarla. La tecnica ci insegna come riconoscere le nostre convinzioni limitanti e come sostituirle con convinzioni più positive. Inoltre, ci insegna come sfruttare l'energia della realtà per superare la resistenza. Per sfruttare l'energia della realtà per superare la resistenza, devi prima identificare le tue convinzioni limitanti. Queste convinzioni limitanti sono le convinzioni che hanno un impatto negativo sulla tua vita. Una volta identificate, devi sostituire le tue convinzioni limitanti con convinzioni più positive. Quindi devi usare l'energia della realtà per portare a termine il tuo obiettivo. Puoi farlo immaginando di avere già raggiunto il tuo obiettivo e sfruttando l'energia della realtà per raggiungere il tuo obiettivo. Per sostituire le convinzioni limitanti con convinzioni più positive, devi prima identificare le convinzioni limitanti che hai. Una volta identificate, devi sostituirle con convinzioni più positive che siano in linea con i tuoi obiettivi. Puoi farlo visualizzando te stesso raggiungendo il tuo obiettivo e immaginando di avere già raggiunto ciò che desideri. Puoi anche creare una lista di affermazioni positive che sostituiscano le convinzioni limitanti. Quindi, ricorda di visualizzare e sentire le convinzioni positive ogni volta che ti senti bloccato da una convinzione limitante.